Allora dottor Bergamè, oltre un anno fa grazie all'impegno della vostra equipe a Chioggia avete organizzato un bel convegno di isteroscopia, devo fare ancora pratica nella parola che tu scusa, e adesso, dopo un anno di distanza, molta acqua è passata sotto i fiumi e abbiamo il giorno 25 un corso di isteroscopia. Ci vuole raccontare sinteticamente come si è arrivati, come mai l'ospedale di Chioggia, tanto a volte mal visto, mal parlato a livello locale, invece fa qualcosa che a livello mi sembra nazionale, modernissimo. E' la conclusione di un percorso che noi abbiamo iniziato circa 4 anni fa con l'istituzione di questo servizio di isteroscopia diagnostica. Mano a mano ci siamo attrezzati grazie alla nostra amministrazione che ci ha messo a disposizione una tecnologia all'avanguardia. L'anno scorso abbiamo fatto il primo congresso con Live Surgery Interventi Chirurgici in diretta, a cui hanno partecipato i nomi più illustri dell'isteroscopia a livello mondiale. Uno dei nostri medici, due dei nostri medici, si sono formati nella scuola di isteroscopia italiana Ficulle, che è gestita dalla professora Mazzone, il quale ci fa l'onore anche quest'anno di partecipare ai nostri incontri. Uno dei nostri medici è diventato uno dei tutor di questa scuola, adesso altri medici si stanno cimentando in questa nuova tecnica, e finalmente quest'anno per la prima volta abbiamo un corso. Quindi 25 medici da tutta Italia vengono a Chionge per imparare questa nuova tecnica, che non è poi così tanto nuova, però se fatta a livello ambulatoriale, ci permette anche di risolvere dei problemi che un tempo bisognava per forza permettere alla pazienza, adesso in office si dice così. Noi siamo in grado di fare piccoli interventi anche ambulatoriali, di un certo spessore, a togliere i polpi, l'endometrio, i polpi del canale. Altri tipi di sintomi come possono essere le parenti di l'autorinanomale, che sono quelle che lamentano la stragrande maggioranza delle donne tra i 40 e i 60 anni, vengono gestite direttamente e esclusivamente ambulatoriali, con un minimo di scontro, trasvegli, e solamente le pazienti che hanno bisogno di un'amputerapia chirurgica vengono portate in sala operatoria, in dei sargeri, in giornate risolvono tutto, si possono fare questi interventi nel giro di 5-10 minuti, con degli strumenti che sono i risultati scopi. Questo è un conto che noi facciamo, dove insegneremo come si istituisce questo servizio di stereoscopia, e insegneremo a questi medici, che vogliono cementarsi in questa tecnica chirurgica, qual è lo strumento più adatto per il tipo di problema che ha l'azienda. Questo è il nostro scopo. Posso dire solo che sono orgoglioso di questo incontro che ci permette di mettere la nostra azienda e il nostro reparto all'avanguardia. Quindi è vero che a livello locale tutti gli ospedali vengono un pochino bistratati, però posso dire sempre con maggior orgoglio che la popolazione di Chioggia ha risposto con entusiasmo a questo, tant'è vero che noi abbiamo pochissime funghi per quanto riguarda queste tipologie, anzi abbiamo aumentato anche gente che vengono dall'Alterazd, possono eseguire questi interventi e li vogliono eseguire qui da noi a Chioggia. E questo per me è un motivo di orgoglio, e grazie anche ai ragazzi che si sono cimentati e sono diventati veramente dei proventi in questa nuova tecnica chirurgica. Grazie.